Questa è un'attività collezionistica nata 35 anni fa, che già aveva una sua base prima attraverso un altro tipo di collezionismo di arte contemporanea, e poi sono passato all'arte moderna, che era la figura dell'Ottocento in prima persona. Io e mia moglie abbiamo cominciato girando un po' tutte le robe, non solo l'Europa, a raccogliere, se conto una certa idea di quali, e dar fuori questa collezione. Tutte le opere sono come i figli, per me, dalla prima all'ultima sono tutte uguali. Poi ci può essere l'opera di maggior pregio e maggior valore, ma per noi anche l'opera di minor valore è sempre un'opera che noi abbiamo cercato, voluta e acquistata perché ci piaceva. Il mio sogno era quello dopo un po', considerando che noi non abbiamo eriti diretti, volevamo che questa collezione non fosse smembrata, dopo di noi, insomma. Allora abbiamo deciso di fare qualcosa da lasciare a Pescara, no? A Pescara ci è stata molto ostile, quindi per sette anni abbiamo rincorso, diciamo, questo sogno. Siamo stati trascinati in tribunale di vario tipo, fino a che poi la fine si è realizzata, no? Hanno capito che stavo proponendo qualcosa di importante. Il mio lavoro per oltre 50 anni è stato quello di fare il costruttore, quindi in effetti questo mi ha facilitato un po' in tutto quello che ho fatto. È stato tutto fatto da me, personalmente, sì. Ogni cosa qua è stata, diciamo, curata da me, personalmente, con molta pignoleria, diciamo, con molta attenzione. E questo è falso anche per le opere. La Cornice ha avuto un discorso, io ritenevo che i capolavori vanno, diciamo, vestiti bene. E come anche una bella donna è ben vestita, quindi i capolavori vanno vestiti bene. Quindi ho girato, anche per questo, tutto il mondo, nonostante l'Europa, cercando di scopare le cornici più belle e più adatte di vestire quell'opera. Ovviamente andiamo al 400, all'800. Il museo vive soltanto se continua ad aggiornarsi, a fare convegni, a fare mostre sempre più importanti, di livello ovviamente non dal nazionale minimo, massimo all'internazionale. Qualche lì, alcuni progetti già ce l'ho in mente, adesso vanno valutati, perché oggi è molto difficile avere delle opere, molto difficile poi. Qui hanno tutte le garanzie perché la costruzione è idonea a tutto. Abbiamo cassaforte del trucco della Banca d'Italia, abbiamo un impianto di, diciamo, deumidificazione, che c'hanno pochi musei, abbiamo un impianto di condizionamento quasi tutto a paimento, quindi senza correnti d'aria, senza riflussi, senza niente. Dovrebbe essere più facile per noi avere delle opere per poter fare delle grandi mostre. Noi da sempre siamo innamorati dell'arte, quindi è stato il nostro compagno di viaggio nella nostra vita, quindi abbiamo sempre cercato il bello, ma questo non soltanto nei quadri, anche in tutto il resto. Lei ha visto dei mobili che sono di notevole qualità, ha visto delle cornici che sono di qualità, ha visto anche questa libreria che non è, diciamo, è tutta inerente alle opere, è stata per lo più inerente alle opere che noi conserviamo in questo museo. Quindi il bello per noi è sempre stato la rincorsa. Come disse Giuseppe Palizzi, che è stata la figura fondamentale intorno a cui mio marito ha poi costruito tutta questa collezione, vorremmo rinascere per ricominciare. Io personalmente, essendo stata una pediatra, mi aspetto di vedere l'ultimo piano, pieno di bambini, anche piccolissimi, che vengano con le loro cartelline, con le loro matite, ad imparare a guardare un quadro, a disegnare. Ecco, questa è la mia prossima tappa. Grazie a tutti.